Nei prossimi giorni l'anticiclone presente sul mare del nord si unirà con l'anticiclone africano, mentre la depressione presente sulla Scandinavia, scendendo verso sud, si unirà con la depressione balcanica. Di conseguenza, correnti settentrionali interesseranno l'Italia e il Mediterraneo. Domani prevediamo inizialmente bel tempo su questa regione con cielo in prevalenza sereno. Nel pomeriggio caldo a foso in pianura, sulla costa un po' di venti di brezza, mentre in montagna il cielo si farà tra il variabile e il nuvoloso e saranno probabili dei rovesci e dei temporali. In serata qualche temporale potrebbe forse interessare anche qualche zona di pianura e costa. Sulla costa, dalla tarda serata, comincerà ad affluire vento di bora dal carso, bora in genere moderata. Farà caldo domani sulla regione con temperature tra i 30 e i 32 gradi in pianura. Domenica mattina inizialmente avremo nervosità variabile sia in montagna che su pianura e costa. Farà più fresco, le temperature massime non supereranno i 25-26 gradi circa. Al mattino soffierà ancora un po' di bora moderata che poi verrà sostituita dalla brezza nel pomeriggio. Lunedì ancora nuvolosità variabile con la possibilità di qualche rovescio temporalesco in montagna. Temperature ancora al di sotto della media del periodo. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Livo Stefanuto.